Ciao a tutti, finalmente riesco a farvi il video dei peperoncini piccanti questo è il peperoncino cayenne, è un piccante medio io faccio in questo modo, quando li raccolgo faccio le collanine proprio con acqua e filo, li faccio essiccare naturalmente con il vento e con il sole poi andiamo a togliere il picciolo, ovviamente vi consiglio di usare sempre i guanti, il lattice, altrimenti può essere molto pericoloso e anche la mascherina, altrimenti le polverine del peperoncino possono darci fastidio andiamo a tritare i peperoncini in un tritatutto, in questo modo e il risultato è questo andiamo a mettere un cucchiaino nel peperoncino di sale mescoliamo bene e una volta che abbiamo mescolato bene andiamo a prendere il barattolino di peperoncino che preferiamo e lo andiamo a riempire e poi una volta riempito lo andiamo a riempire di olio extravergine di oliva lo facciamo stare aperto un po' di tempo affinché l'aria nel barattolino esce e poi andiamo a chiudere il barattolino ciao a tutti